ciao amici come potete vedere siamo ancora a casa e già ma noi non vediamo l'ora di tornare in vostra compagnia è vero già del gourmet t show ci manca tantissimo e sì perché ci piace molto farvi divertire insieme a noi e quindi abbiamo pensato di farvi ridere con qualcosa di mai visto giusto johnny perché oggi vedrete alcune scene sbagliate del gourmet t show si insomma quelle scene che non ci vengono proprio benissimo e che non vengono inserite nelle puntate e potrete vedere quanto ci divertiamo anche quando sbagliamo intanto noi stiamo collezionando tutti i vostri disegni e non vediamo l'ora di farveli vedere al più presto ricordate di continuare a mandarli insieme alle foto e alla baby dance e alle storie gourmet tiche dove johnny scrivete a gourmet t show punto gourmet t punto com e già da sei pronta per il video certo sono prontissima vai col video ciao ragazzi bentornati al gourmet t show ciao ragazzi e bentornati al gourmet t show ragazzi questo qui è un'anteprima nazionale nazionale ti chiedi al gourmet t show c'è un pard carion e un altro sacco di un pard carion e un altro sacco di un pard carion e tantissimi ci conto eh ci conti ci conti all'interno ci stava ci stava ci stava dai Guarda chi c'è, c'è Gregd Gregd Se a te piace la babyness Sì, te me l'hai appena detto Mi piace tantissimo No Spence, no non devi far così Non lo so, non lo so Magari sul no ho decidente Così Ma che l'ho fatto di qua? Da destra Ma adesso vediamo Disegno gormitico Tu Tu devi dire di cosa Questo magazine uscirà tra fine marzo e inizio aprile 2015 Quando l'orvoido sfida invece è stato scampito Non anticiparmi E' quello che uscirà a bere No che l'ho detto giusto Quando Koga è arrivato per la prima volta Già da cosa stai Mi è caduto Sì, oggi è venuto a trovarci un nostro carissimo amico Edoardo Ed è anche un super fan dei gormiti Sì 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 Proprio vero Perché questo è come uno sbadiglio poi, capito È contagioso Quando inizia a sbagliare uno Sbagliano tutti C'era un bel c***o Ed ecco la challenge di... No E oggi per la c***o Per la challenge di oggi utilizzeremo il set bullying dei gormiti C'è ragazzi, ben tornati nella seconda puntata Nella seconda puntata, parte Della prima parte, del quinto episodio, della terza parte No, no, no Nella seconda parte della puntata C'è ragazzi, ben tornati nella seconda... E... azione C'è ragazzi C'è ragazzi Chi c'è? Perché c'è... Non l'hai fatta tipo... Pronti Riusci di farla adesso? E io ne... Saluti Ehi, fine puntata Io pari Io dispari Gormiti Bim bum bum Ma veramente Ma non ce l'ho passato Stop Gormiti Ma quindi appenderemo i disegni dei bambini sulla parete meca No, no, le foto appenderemo, no? Hai ragione, non i disegni Ragazzi, è uscita la seconda portata... Eh, portata Eh, la seconda portata La te... E... azione Bene Giada, siamo proprio arrivati alla fine di questa... Trigis... Ti prendi indietro? Ti facciamo? Su Ci vediamo giovedì E giovedì L'anticipato di un giorno Ciao a tutti Ciao a tutti e grazie per averci seguito e... Grazie E per... Possiamo... Possiamo tenere qua, dai Sì Un saluto Da Johnny e Giada Va bene Dai, cioè... Ok, questo cambia bisogno della pausa Dì... Di... There... Grazie, così... Grazie a tutti.